Dov'è? Dove sei? Dov'è? Ah, sono piaciuto, davvero morto! Non è finito, non è capitato. Non sono finito o non finito? Sì, non ho piaciuto, ma non mi venisse? Ma che problemi hai? Oh 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 Vai via! Vai via, vai! Vai via! Vai via perché ti stendo! Vai via, vai... Vai via! Vai via, oh! Vai via, vai via! Vigili, vedi! Vigili, vedi! Chiamo ai carabinieri! Chiamo ai carabinieri! Chiamo ai carabinieri! Monti, sistemiamo! Monti, sistemiamo! Monti, sistemiamo! Mi sono scoputo da dì! Otro, come chi va andare in paio? Mi sono scoputo! Mi sono scoputo da dì! Faccio! Ci sono scoputo da dì! L'argo ad ora! Ci sono scoputo da dì? Ci sono scoputo da dì! Ci sono scoputo da dì! Vedi ci sono scoputo da dì! Chiamo un luogo in paio! se non si non ci avevano il telefono è quando ti metti? non ci avevo il mezzo ecco 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 non lo senti ecco 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 mani in tasca cosa che è venuto a picchiarsi qua dentro mi ha dato una sberda a lei tu cosa hai fatto le mani ma che non riuscite vivi da qua ne hai capito sul mare per il senso del mare per me non hai ragione la droga eh no ma i carabinieri o chiami i carabinieri con noi tu come ho tutto mi stacca deve terra deve terra chi dice che hanno fatto non fa la figlia con me no fa la figlia con me oh ha il telefono 3 ore 6 ore andate ha il telefono hai la pistola sparagli si svegli o no ma quando ho l'ha detto èllo che non ho l'ha detto ma no no ti svegli o no oh il telefono grande facciame la cop tolerance unlandePe ho cheesecake non ho sai sul canale cerchia no no cerchia cerchia il mio codice venute sul canale ma non上面 Nè! Nè! C'è un muro su me! Sì, ha chiamato, chiamato qui come ottici! Cazzo d'anna di l'attari! Ma chi li conosce? Ma che cosa gli abbiamo fatto noi e loro? Non mi piace che c'è la gioventa! Pronto, carabinieri? Sì, pronto, carabinieri? Ecco, grazie! Senta, noi siamo qui a Villa Caccia, in Via Nesboledo numero uno e sono venuti dalla gente. Qui ci sono i vigili... Levakovici e Davide! Levakovici e Davide! Levakovici e Davide! Sono venuti? Sì! Sì, grazie! Merda! 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 Ci sono la cieca! Io porto! Io vi produisco i passati! Pronto carabinieri? Senta, qui sono venuti... Siamo a... 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 a Villa Caccia in Via Nesboledo! e sono venuti ad aggredirci ecco senti come stanno parlando grazie faccia presto faccia presto grazie a oh oh ma stai non darvi ah e non 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 scammare il mio padre! Diolado! Non so il caso, mamma mia! Non so il caso, mamma mia! Sveglia! Non so il caso! Non so il caso! Davvi la pistola! Davvi la pistola! Preggio la pistola!